Ciao, io mi chiamo Francesco Lerario, sono un musicista e un compositore e voglio parlare della mia esperienza del coaching con Carlo D'Angio, grazie al quale ho potuto realizzare il mio blog che si chiama dentrolemusica.it. Per riassumere attraverso un aggettivo, una semplice parola, la mia esperienza di coaching con Carlo D'Angio, posso usare soltanto un termine che è entusiasmante, ed è entusiasmante per diversi motivi, fin dal primo momento nel quale in realtà ho conosciuto Carlo, per quale motivo? Perché io sapevo veramente poco di blog, ho trovato su Youtube un video di Carlo nel quale parlava del blog in business e mi ha colpito la sua lucidità, la sua genialità di percepire l'occasione che si presentava con il web, con internet, di poter sfruttare la propria conoscenza e quindi attraverso la propria conoscenza riuscire a guadagnare attraverso un blog, cioè quello che è stato secondo me la grande capacità di Carlo è stata proprio quella di capire che con internet chi aveva delle conoscenze poteva veramente riuscire a farle fruttare e il mezzo secondo Carlo era il blog. Allora io mi sono affrettato ad acquistare il libro di Carlo sul blog in business, come fare 100.000 Euro eccetera eccetera e dopo la lettura, affascinato ovviamente dalla lettura, visto che avevo deciso, volevo riuscire a fare un blog nel quale poter vendere o utilizzare e comunque mettere a disposizione delle persone la mia conoscenza musicale, ho contattato subito Carlo. Perché parlo di entusiasmante? Perché prima ho usato il termine entusiasmante? Perché la cosa veramente che mi ha scioccato è stata che con Carlo ci siamo sentiti su Skype, lui è stato estremamente disponibile e assolutamente gratuitamente, soltanto dandomi in 10 minuti delle informazioni mi ha illuminato completamente su tutte quelle che erano le possibilità che avrei potuto, diciamo che dei 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 modi in cui avrei potuto utilizzare tutte le mie conoscenze musicali per costruire un blog insegnando la musica. E quindi a quel punto di fronte a una marea di informazioni, di spunti che mi aveva dato, non mi è rimasto altro che chiedergli di farmi proprio un coaching e in due mesi circa Carlo è riuscito da zero a mettermi su un blog assolutamente professionale, il blog Dentro la musica.it. È stata un'esperienza per me molto importante sia dal punto di vista professionale perché Carlo ha dimostrato di avere una conoscenza, io sinceramente prima di conoscere Carlo di blog in business sapevo praticamente zero, quindi ha dimostrato di avere una competenza, una professionalità eccezionali, di conoscenza di tutti i plugin più importanti e anche mi ha dato molti consigli di marketing, di come utilizzare appunto il marketing per lavorare col blog e con la musica. Ma devo dire la verità che è stata anche un'esperienza umana molto importante perché mi ha fatto anche conoscere l'uomo Carlo D'Angio che devo dire la verità è una persona di grande spessore, di grande spessore umano, simpatica, cordiale, che mette a proprio agio, ironica in quanto serve e comunque molto 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 seria. Ma in più Carlo è stata per me una vera e propria fucina di idee, cioè nel momento in cui io ponevo un problema a Carlo, gli dicevo che Carlo mi piacerebbe che si potesse fare in questo modo, lui attraverso il mio input, cioè riusciva a trasformare questo mio input in una valanga di idee, di nuove idee, di nuove risorse e di nuove possibilità che mi si presentavano e tutte queste che poi in parte siamo riuscite a sviluppare, è riuscito a svilupparle con una grandissima brillantezza e con una, ripeto, grandissima professionalità, nel senso che di fronte a qualsiasi mia richiesta lui già sapeva esattamente qual era il plug-in, qual era il modo migliore, eccetera, eccetera. Devo dire la verità in più che poi Carlo ha come dotto umano una grande pazienza, nel senso che io spesso lo tormentavo con domande di qua di là e come parlavo prima del punto di vista umano di Carlo si è dimostrato una grande persona anche perché è stato molto paziente con i miei tormenti, quando lo tormentavo di domande anche perché appunto non ne sapevo tanto. Quindi io se devo dare un consiglio a qualcuno che vuole cercare di realizzare un business attraverso internet, attraverso un blog, non posso che consigliare caldamente di avvelersi del coaching di Carlo D'Angio, ripeto per due motivi, primo è il motivo professionale che non si discute ma già lo conoscevo e ho potuto verificare di persona la competenza e la bravura, e l'altro è l'aspetto umano che rende veramente Carlo una persona completa e che veramente mi ha dato tanto. Ciao a tutti!